I volti dei protagonisti della settimana santa, i simboli e gli abiti da loro indossati, i dettagli delle processioni, i piccoli e i grandi gruppi statuari, momenti della real maestranza e del venerdì santo. E ancora, i fiori della barca di Gesù Nazareno, le bande musicali, gli aspetti anche più folkloristici correlati, ma soprattutto i cittadini che prendono parte alle manifestazioni, la folla di Nisseni e non solo, che si riversano in centro per assistere riti pasquali, momenti catturati da una macchina fotografica che raccontano le tradizioni della città. Scatti esposti nell'ex rifugio antiaereo in occasione della mostra fotografica alla settimana santa di Caltanissetta, ieri e oggi, che rimarrà aperta sino al 30 aprile. Un evento abbracciato dall'amministrazione comunale Proloco, che mette insieme le foto scattate proprio durante la settimana santa, negli ultimi 10-12 anni dal fotografo Lillo Micicè e negli anni 50 da Gianfranco Ayala, che ha svolto la professione di medico e docente universitario. La settimana santa è da Nisseni e nostra e di tutti, ed è fatta sia dagli attori principali, che possono essere le varie maestranze, i vari portatori, ma possono essere, e lo sono, i cittadini stessi che scorrono durante le processioni in quei momenti di passeggio, di incontro, di socialità, se lo vogliamo definire così. E quindi, diciamo che rappresenta un po' questo nostro modo di essere, il nostro modo di vivere. Mi interessava comparagonare e vedere se c'era differenza sostanziale, soprattutto di contenuti interni, tra le mie fotografie di 70 anni fa e quelle sue, attuali, con macchine attuali. Quindi era un'esperienza, cercavo un'esperienza intellettuale per capire se oggi, nonostante con tutte queste macchine fantastiche che hanno, riuscivano a trasmettere lo stesso messaggio che trasmettevo io allora, con uno strumento molto semplice e molto elementare. Quando io mi trasferì in America, mi portai dietro tutti i negativi e i filmati che avevo fatto qua. Mi sono sempre chiesto perché l'ho portato, perché là facevo un altro mestiere, avevo altre carriere, altre cose. Perché quella era la mia vita, il mio passato, il mio futuro. Ero io quelle fotografie. Ha rispolverato dunque delle foto scattate da ragazzo, prima di andare via dal suo luogo nativo per motivi di studio e di lavoro. E proprio in questi giorni sono state anche presentate le pellicole restaurate di Gianfranco Ayala, a quei tempi infatti ha anche realizzato dei documentari sulla settimana santa di Caltanissetta, Deli e San Cataldo e sulla miniera. Partecipo. Non sono uno spettatore della manifestazione sacra, ma sono un attore. Infatti la gente mi ride in faccia. Io ho fatto un documentario sulla miniera, una miniera di mio nonno, quindi ero a casa. E allora c'erano tutti gli operai che mi chiedono, Gianfran, ma fai la fotografia? E io rispondevo, sì, ta faccio, però tu mi ride in faccia. Il rapporto era questo. E è andato, cioè rivedendolo ora dopo tanti anni, sono molto contento di quello che feci allora.